Quindi ha passato una serata, che probabilmente era il venerdì sera, in quattro sotto un tetto con altre tre persone, di cui non si specifica meglio quante ragazze o ragazzi, e hanno bevuto tutti insieme otto bottiglie di vino, di cui sono rimasti otto fondi appunto, vino piemontese, bracchetto, e si prepara a un'altra serata, che sarà quella del sabato sera. E tutto questo sta lì in una certa ripetizione quasi circolare, quasi a mostrare la routine di questo continuo weekend, venerdì sera, poi sabato sera, poi la prossima sera, poi la prossima serata, che però alla fine della fiera è tutto un continuo ripetersi degli eventi, sempre nello stesso locale, sempre con la stessa routine. In teoria dovrebbe essere anche lui che si mette in tiro, e in teoria, se ti metti appunto in tiro, è una cosa fuori dal comune, o è una cosa che di solito non fai. Quindi è una cosa speciale, però dal modo in cui lo descrive, dal titolo della canzone, e anche dalla ripetitività con cui descrive certe sue mosse, ma soprattutto dalle sue parole, si capisce che in realtà non è più poi così speciale questo uscire il venerdì sera o il sabato sera all'interno di questa sua età, di questo suo periodo. Quindi è diventato routine anche quell'uscita che in teoria sarebbe dovuta essere speciale, e lui non riesce ad apprezzarlo perché vede la banalità dietro a quelle che in realtà dovrebbero essere serate di divertimento. Sì, allora, questa era la parte che c'è nella seconda strofa, quella in cui lui cerca di svoltare serata, per così dire, perché nella prima strofa lui parla di come sia il suo risveglio dopo un venerdì sera un po' alcolizzato, in cui fa anche riferimento al fatto che distribuisce il suo cornetto alle altre ragazze qua e là. E poi lui non è che si mette proprio in tiro, però si veste un po' da Paninaro, stile Paninaro anni 80, con le Timberland, con i blue jeans. Sì, 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 sì. Quindi quando esce di casa, dopo questo venerdì sera, probabilmente era un venerdì sera. Sì, era casual, diciamo un po'. Esatto, è tranquillo proprio per il pomeriggio, no? Non è ancora in tiro per la serata proprio. Esce, descrive anche lì il modo in cui si prepara, no? Mega blue jeans, ciubbetto e le Timberland a stivale, bel caffè. Fa ridere come... Da un lato dice, è un po' romanticone perché dice a quest'ipotetica persona a cui dà del tu, sai quante serate sono che ti sto aspettando, no? Ma sai quante serate che ti aspetto? Però, e si pente anche di quello che dice subito dopo, però lo dice e lo ha fatto. Cioè, mentre ti sto aspettando, io comunque sto dando il biglietto, un biglietto un po' vago, potrebbe essere del cinema o di qualsiasi altra cosa. Della metro. Della metro. Non credo a Senigallia. Comunque do il tuo biglietto, nel frattempo non è che sto da solo, lo do ad altre ragazze, no? E gli do anche il mio cornetto, che è una maniera un po' divertente di dire una... Vabbè, qua l'unica cosa romantica che ha detto è sai quante serate che ti aspetto. Però chiude anche il testo intero alla fine dicendo di nuovo, no? Sai cosa mi manca? Una lei che non si stanca, ma è più la gente in cui non mi rifletto. Quindi sta aspettando. Ok, sì, sta sempre riferimento a una lei, diciamo comunque. Sì, è un fibra che comunque la sta aspettando questa persona speciale. È un fibra tenerone, è un fibra sottone, è un fibra comunque giovanotto. Sì, 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 assolutamente, giovanotto. Comunque dicevamo appunto che lui nella seconda strofa cambia un po' all'inizio della prima strofa, dice come sei svegliato, eccetera, poi dopo dice che esce, non sa per quanto restaro fuori. Poi inizia subito già nella seconda strofa facendo capire che sta fumando le canne, lì. Vede la sua macchina bella lucente, lucida, dice. E allora decide di vedere se svoltare la serata andando in un club, mi sa, un po' più chic, un po' più alla moda. Quindi si veste tutto in tiro, cravatta, con i capelli cotonati, non me lo immagino, fibra con i capelli cotonati, comunque perché l'ho sempre visto senza capelli. È vero, però invece lui si scrive più cotonato di un gran modovatto. Giusto, giusto. Con lo sguardo alla Frank Sinatra. Però comunque c'è sempre questo sguardo esterno, quasi come se venisse già dal futuro. C'è questo sguardo esterno che chiede a quelle persone intorno a lui, magari a una persona che sta guidando, no? Gente strafatta si esalta quattro volte Batman. E c'è la frase proprio, ma dove corri non siamo a Manhattan. Che è un po' magari verso gli altri intorno a sé, ma anche verso se stesso, quindi... Un po' verso altri lidi? Lui sta comunque facendo questa cosa che dici tu, si mette in tiro e tutto, ma si rende conto che nonostante vada nel locale più figo, anche di tutta quella zona mediterranea, in realtà non è a Manhattan. E la differenza tra quello che lui si immagina che succede a Manhattan e quello che effettivamente succede dove sta lui, la descrive un po' come una differenza tra Pandemonium, un gioco comunque più 3D, è molto più interattivo o diciamo molto più coinvolgente di Pac-Man. E quindi Manhattan, o almeno l'idea ca fibra di quella città, è come Pandemonium, è il posto in cui si trova invece come Pac-Man. Eh sì, è un bel gioco, si ti fa ripetere, eccetera, giochi ancora, ma fondamentalmente è quello, sempre la stessa ripetizione, sempre la stessa storia. E io vedo un po' anche questa critica alla provincia, che comunque lui ha ripetuto già in altre interviste, la vedo anche in una rima che altrimenti non avrebbe poi così tanto senso, se conteggi difetti e pregi di ogni persona che conosci dimostri come afflosci pomeriggi. E devo pensare immediatamente al gossip e a quanto si sparla ai pettegolezzi proprio delle province. Dei paesini. Di come, siccome non c'è niente da fare, le persone sono la cosa più interessante e quindi si parla e si sparla delle persone. Non ci sono grandi eventi. Lui fa già capire che se sei parte di quelli che stanno lì appunto a sparlare, a vedere sempre solo i difetti e i pregi, dici già che afflosci pomeriggi. Sei flosci, esatto. Non sei come piace a lui e in generale lui non è così e non fa questo. Sei già più che noioso. Quindi lui effettivamente si rende conto in tutta questa canzone che mentre tutti gli altri intorno a sé sono lì a grattare e a grattare, quindi a vivere questa noia, che è quell'idea del grattarsi per noia, però anche con quella speranza di vincere finalmente il primo premio, di vincere il gratta e vinci. Quindi vai nello stesso locale in cui sai che non succede mai niente, ma hai comunque la speranza che questa sera succeda qualcosa e per questo vai ancora lì. Lui descrivendo tutta questa situazione intorno a sé si rende un po' conto che lui non è veramente così o che per qualche ragione tutto questo non gli piace. E mi piace la frase con cui praticamente chiude la seconda strofa. è più la gente in cui non mi rifletto, quindi mentre guarda intorno a sé si rende conto di essere diverso da tutti gli altri, strano. Anche se comunque lui un po' si adatta, no? Quindi le otto bottiglie di brachetto le ha bevute con quelle altre tre persone. Se le fa, non è che non se le fa. Esatto, si è svegliato e ha controllato la situazione, no? Guardo allo specchio come Giul mi aspetto dopo aver passato questa serata con eventualmente qualche altra ragazza. e la macchina la mette in tiro, eccetera. Si è un po' adattato a questa situazione di grattoneria. Sì, però alla fine si annoia pure lui. Però sta sognando qualcos'altro. Quindi non vede l'ora di fare una cosa di più, di andare oltre, ecco. Ma mentre la sta cantando non è ancora arrivata quella cosa lì. Anche se effettivamente lui già lo sogna e lo dice, molto brevemente, però lo dice, voglio vedute maxi, palazzi, taxi. Quindi sono in cerca di spazi. Vuole andare a Milano. Sta già pensando a Milano. Sta già pensando a Milano. Anche se ancora non la conosce così tanto. Però lui vuole già quella cosa lì. In qualche intervista, l'aveva anche detto, e lui con sindrome di fine millennio già sperava nella svolta perché aveva ricevuto un bel po' di complimenti. Quindi era cosciente del suo talento, anche perché era da più di qualche anno, da almeno tre anni che faceva delle cose che sono rimaste, no? Da il rapimento del vulpla e custodi del tempo. Aveva già ricevuto dei vari feedback positivi da persone comunque che erano nel gioco, erano nella scena. Però la sua speranza era comunque un po' ingenua, un po' da ragazzo. Come se adesso noi, iniziando questi video, abbiamo visto che ci arriva qualche bella risposta. E boom, subito vogliamo. Ci aspettiamo già il milione di visualizzazioni. Ah no, pensavo il milione in contanti. Il milione in contanti, il miliardo di iscritti. È un po' quello che comunque lui lo dice, non mi sembra proprio che lo voglia dire, però l'ha ammesso ultimamente appunto in qualche intervista di come con questo disco già sperava di fare il salto nella major. Poi in realtà ci sono voluti altri sette anni in più. Ma lui già lì pensava di essere... Aveva visto, aveva capito il talento che aveva, ma pensava sarebbe stato molto più velocemente. Quasi come un gratte vinci, no? Eh, io queste curiosità non le conoscevo, però dico che ci sei tu. Sì, sì, sì. Quindi è una canzone così. È una canzone che fa ricordare comunque sia con la musica che con le parole che usa. Fa pensare al giorno dopo la festa, come appunto ieri per noi, dopo il Capodanno. Non penso sia un caso che l'abbiamo scelto per i video di questa settimana. Forse no, infatti. Siamo un po' grattoni. Oggi è un po' una giornata gratta e gratta, perché alla fine ieri tutti a ripigliarsi, oggi è un po' come una domenica, e domani è ancora domenica, sarà tosta. Sì, 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 sì. E questo era il nostro video, dai. Vabbè, dai, questa è la nostra domenica. È la nostra gratta e gratta, comunque la routine rimane intatta, perché è un sabato che non finisce mai.